Servizio civile è una grande opportunità per i giovani perché non solo è un percorso formativo ma è anche un modo per entrare nel vivo del mondo del lavoro. Il Comune di Napoli, nello specifico, dà la possibilità a 81 ragazzi e ragazzi di provare questa esperienza all'interno di tutti i propri uffici in maniera trasversale. In questo modo quindi possiamo accontentare quelli che sono anche magari percorsi di studio che ogni giovane ha avuto in vari settori. L'esperienza del servizio civile dura 12 mesi con una retribuzione mensile di circa 500 euro e un requisito importante che dà anche il servizio civile, questa è una novità molto importante, che ci sarà in tutti i concorsi pubblici una riserva di posti del 15% per tutti coloro che hanno svolto il servizio civile. Quindi un elemento in più che rafforza questa esperienza che ci auguriamo possa essere svolta da tanti giovani all'interno della nostra amministrazione. È possibile partecipare al servizio civile presentando la propria domanda entro il 15 febbraio al sito serviziocivile.it e seguendo tutte le indicazioni fino ad arrivare al form che permette l'iscrizione e permette anche la scelta dell'ufficio specifico, in questo caso all'interno del Comune di Napoli, dove si vuole svolgere il proprio percorso.